Roberta Morise, rapporto a distanza col fidanzato Luca.Amore pendolare per Roberta Morise Da quando lo scorso settembre è stata scelta come nuova conduttrice dei fatti vostri, la 32enne è stata costretta a lasciare la Svizzera e a rientrare a Roma A Lugano conviveva da tempo col fidanzato Luca, che ora riesce a vedere solo nei fine settimana Un rapporto che, almeno nella quotidianità e nella forma, è cambiato parecchio, ma che è rimasto il medesimo nella sostanza La distanza tra di noi non è certo un problema. Quando un rapporto si poggia su solide basi, non c'è nulla da temere, ha assicurato la presentatrice in un'intervista concessa al settimanale Vero Non appena i miei impegni romani legati ai fatti vostri me lo consentono trascorro più tempo possibile con Luca e con la mia famiglia d'origine, ha aggiunto la showgirl Roberta Morise, amore a gonfie vele col suo Luca.Dal 2016 Roberta Morise è felicemente fidanzata con Luca, un imprenditore svizzero La coppia è pronta al matrimonio ma per il momento preferisce aspettare. Grazie a questa storia d'amore la Morise è diventata cognata di Claudia Andreatti, l'ex Miss Italia è impegnata con Andrea, fratello di Luca Roberta e Claudia vanno molto d'accordo, come rivelato in più di qualche intervista Roberta Morise è contenta del nuovo lavoro in tv.A sei mesi dal debutto, Roberta Morise è contenta del lavoro ai fatti vostri, dove ha rimpiazzato Laura Forgia Qui riesco a esprimermi a 360 gradi. Sono davvero orgogliosa della bellissima accoglienza che ho ricevuto Ho trovato una seconda famiglia, fatta di straordinari professionisti, di persone per beni, ha dichiarato la Calabrese Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like